in diretta anche oggi sabato 23 gennaio buongiorno benvenuti a tutti cari telespettatori di fano tv questa è la rassegna stampa occhio ai giornali tra poco vedremo le pagine selezionate per voi dal resto del carino Corriere Adriatico allora andiamo a vedere adesso il santo poi il tempo il santo di oggi è Sante Merenziana il sole sorgerà alle 7.37 e tramonterà alle 17.06 e adesso il meteo beh che dire per oggi intanto il bollettino della protezione civile delle Marche ci indica che avremo venti forti con raffiche fino a tempesta violenta sulle zone alto collinarie montane fino a burrasca forte sulla fascia collinare dunque prestate attenzione al vento per il resto avremo un po' di piovaschi nella mattinata soprattutto nelle zone appenniniche per domani domenica 24 gennaio abbiamo la neve vedete sui monti più alti poi il resto sarà alternanza tra pioggia e schiarite le precipitazioni saranno diffuse nell'entroterra e sparse altrove in graduale esaurimento nel corso del pomeriggio ancora un po' di vento lungo la costa vento forte ma poi in diminuzione anzi diminuzione fino a un certo punto perché poi lunedì 25 continua il maltempo ancora precipitazioni sparse le temperature diminuiscono quindi si abbassa anche il limite delle nevicate che sarà intorno ai mille metri vedete già il simbolo della neve anche a nord della nostra regione sulle nostre montagne della provincia pesarese ma come dicevo il vento continuerà con burrasca forte o tempesta da meridione poi nel pomeriggio si disporranno questi venti da nord nord ovest nel pomeriggio quindi si abbasseranno le temperature insomma il mare va da sé che poi sarà mosso molto mosso nel corso del pomeriggio mentre un miglioramento ci sarà a partire dalla giornata di martedì 26 e adesso i giornali solo altri sette giorni così così in che senso gialli non ci sono speranze di tornare da questa dalla prossima settimana in giallo perché purtroppo l'operazione che insomma pensava di portare avanti acquaroli non è andata a buon fine nel senso cercare tentare di riportare le marche in zona gialla avremo altri sette giorni dunque in arancione l'indice RT è a 0,98 il rischio però è quello di andare verso il rialzo per cui dal ministero hanno chiesto di rimanere ancora secondo i dati di rimanere ancora in zona arancione il governatore dice pronto però un dossier per l'istituto superiore di sanità con tutti i dati tra una settimana voglio tornare in giallo poi pesaro capitale della cultura siamo pronti cultura 2024 lanciata la candidatura ufficiale poi scuola niente classi dimezzate per tre presidi su quattro forano le gomme delle auto per poi derubare le vittime e a urbino igli interrogato sul ruolo di ambera nell'omicidio lule poi vedremo la storia di gina gina la volpe che ogni sera visita l'amico pier giorgio un senso unico verso l'umbria la guinza non aiuta il turismo il traforo sarà percorso in una sola direzione i flussi dall'umbria restano dunque al quadrilatero andiamo sulla pagina del carlino tamponi bocciati la fotonotizia del giorno testa scuola la regione affossa l'iniziativa del comune il comune di pesaro capitale della cultura ce la faremo presentato ufficialmente la candidatura di pesaro in italia ricevimini dicono ecco i nostri punti di forza un diluvio di messaggi per angelo becchetti era il nostro papà l'addio all'ex allenatore della vis scomparso nei giorni scorsi poi si parla già di meteo cipolle a urbania il risponso però arriva soltanto nella giornata di lunedì e poi il nodo profilassi l'assessore salta martini non abbiamo i vaccini per tutti dice contagiata dal suo assistito badante perde anche il posto e la questione delle ferrovie con la freccia rossa soppresso acquaroli scrive a ferrovie dello stato mentre in ospedale di urbino i due reparti cardiologia e psichiatria riaprono i posti letto piazza andrea costa a fano diventerà un luogo incantevole ecco il rendering in primo piano e la droga al lago solazzi sempre a fano non possiamo crederci lo smarrimento dei pescatori le pagine interne altre sette giorni in arancione poi vogliamo tornare gialli dice il governatore acquaroli pronto un dossier per l'istituto superiore di sanità il governatore sta raccogliendo tutti i dati della curva pandemica chiederemo la rivalutazione della regione non possiamo rischiare altri stop ma intanto questa è la notizia che certamente ce l'aspettavamo in qualche modo si sapeva già che i giorni erano 14 le settimane erano 2 ma quindi questo così resta altri sette giorni che speravano di invece anticipare l'ingresso in zona gialla una mission impossible nonostante l'amarezza di essere pronte ad affrontare la riapertura delle attività con una curva pandemica che sta sensibilmente scendendo ieri però con l'aggiornamento dei dati l'istituto superiore di sanità sono sfumate anche le ultime speranze il rischio da alto è passato a moderato ma non è cambiata la pressione sugli ospedali in particolare sulle terapie intensive e sull'area medica anche l'indice RT è rimasto pressoché invariato dalla scorsa settimana a 0,98 destinato però a scendere sensibilmente venerdì prossimo ecco perché venerdì prossimo dunque dovrebbe essere più probabile il ritorno in zona gialla una promozione congelata l'altro titolo dal Corriere congelata da che cosa? dal rischio moderato alto tra una settimana però si cambia contagi in calo del 18,8% ed RT stabile pesano però i ricoveri per Covid ieri altre 12 vittime del coronavirus il più giovane aveva 59 anni in discesa meno 4 i ricoveri nelle terapie intensive il Covid nei luoghi di lavoro con 2821 contagi e 12 vittime marzo e dicembre da incubo report dell'Inail sull'impatto del virus nelle attività professionali delle marche maggiormente colpito del settore sanitario le donne rappresentano il 70% dei casi vaccinazioni l'appello ai sanitari contrari è un dovere morale uno su tre dipendenti del RSA a casa Aura non ha aderito alla profilassi Covid Ricci e Mengucci dicono ora persuasione poi possibili meccanismi di obbligatorietà e più del no vince soprattutto l'attendismo ma la colpa è della burocrazia i vaccini ancora sul Carlino le RSA devono attendere non ci sono le dosi sufficienti la Regione conferma i problemi collegati al taglio della Pfizer l'assessore alla sanità invece fa il punto e dice ora dobbiamo aspettare l'uno di prossimo e vedere se saranno consegnati i quantitativi indicati da Senigallia case riposo vaccinazioni stop Pfizer non ha consegnato le dosi Marini direttore del distretto sanitario dice gli ultimi effettuati alla Veglia Vici Martelli di Arcevia mentre al Covid Hotel serve la proroga continuano ad arrivare pazienti dagli ospedali ma a fine mese la struttura rischia di chiudere intanto l'ospedale qui siamo sempre sulla pagina di Senigallia ma il Carlino l'ospedale respira Covid Hotel verso lo stop dalla Regione nessuna novità sull'eventuale proroga dell'attività della struttura che attualmente ospita ancora 7 positivi gli studenti in isolamento sono 129 mentre quelli con il virus arrivano a 52 bocciata l'operazione scuole sicure per farla Ricci deve scavalcare la legge dice Saltamartini che mette una pietra sopra al progetto del sindaco i tamponi non possiamo darli ai comuni aggiunge Saltamartini esclusi dalla funzione sanitaria se uno è positivo c'è anche un problema di privacy se uno è positivo non può venire a saperlo un ente che non è titolato in quel senso e l'ente appunto del Comune di Pesaro aboliti Frecciarossa partono le proteste depennati sia a quello del mattino che a quello del pomeriggio la regione con acquaroli e castelli si dicono sorpresi e penalizzati gli industriali in una situazione già difficile qui stiamo tornando al tempo del calesse del cavallo mentre venerdì l'assemblea dei soci di Confindustria per uscire da Marche Nord i maggiori industriali della provincia di Pesaro Urbino concordi nel mettere la parola fine all'alleanza con Ancona e poi si parla di concessioni demagnali di spiagge la Bolkestein torna a far paura partita la procedura di infrazione proteste dalla regione perché l'allungamento di 15 anni viene sospeso con questo atto comunitario droga al lago Solazzi siamo sulla cronaca di Fano lo stupore dei pescatori dopo l'arresto di uno dei soci abbiamo raccolto i commenti tra i vari frequentatori l'arrivo della polizia una scena surreale qui non si era mai visto nulla del genere ma era nota la storia dell'arrestato da oggi via ai tamponi a Pergola saranno interessati 10.000 l'appello dei sindaci del territorio e cittadini per favore partecipate parte dunque questa mattina per i residenti di Pergola San Lorenzo, Incampo e Fratterosa questo screening antigenico rapido sarà aperto fino al 27 di gennaio ed è stato allestito a Pergola nella palestra piscina Caprini Minucci di piazza Brodolini gli orari sono sempre quelli più o meno che già conoscete 8.13 e 15.19 mentre mercoledì rimarrà attivo solo il mattino e sono in tutto coinvolti circa 10.220 persone a Colli al Metauro invece c'è la notizia che il medico di base cambia arriva a Sofia Binci prende il posto a Colli al Metauro della dottoressa Giulia Appiani sotto invece Cartoceto azzera le rette scolastiche dei primi mesi del 2020 nessuna famiglia le aveva pagate per lo scoppio della pandemia e ora l'amministrazione ne prende atto e ci rinuncia andiamo sulla pagina di Fano del Corriere Adriatico dove si parla della Guinza la galleria della Guinza una galleria che sarà a senso unico ma verso l'Umbria e dunque addio al recupero dei flussi turistici scrive Lorenzo Furlani questa mattina lo sblocco della Fano Grosseto non favorisce la provincia pesarese il senatore Coltorti presto il raddoppio della canna con la nomina dell'amministratore delegato di Anas a commissario la superstrada quanto prima sarà completata però attenzione appunto è bene soffermarci un attimo su questo fatto perché uno quando dice aprirà la Galleria della Guinza uno si immagina che ecco una bella galleria che si può percorrere sia da un lato che dall'altro in realtà non è così la galleria come scrive appunto il Corriere Adriatico di questa mattina sarà completata aperta al traffico con una viabilità monodirezionale e la direzione sarà quella non verso il mare del Adriatico ma verso l'Umbria verso Perugia chi vorrà raggiungere invece la provincia di Pesero dall'Umbria appunto dovrà continuare a usare la viabilità esistente e dunque andiamo sull'altra pagina quella di Fano del Carlino Piazza Costa si rinnova guardate questo rendering che indica un po' come sarà il disegno di come diventerà questa piazza Piazza Andrea Costa quella che si trova vicino al mercato del pesce nel centro storico di Fano Piazza Costa che si rinnova con alberi, luci e pavimenti nuovi presentata dal Sindaco Seri la progettazione è realizzata dall'ufficio tecnico da parcheggio diventerà un luogo incantevole del centro della città i pentastellati chiedono sempre a Fano sicurezza soprattutto per quanto riguarda il traffico nel quartiere di Sant'Orso e anche l'installazione di autovelox per tutelare i pedoni questo anche dopo l'incidente che c'è stato l'ultimo che c'è stato che è coinvolto due persone tra cui anche una ragazzina di 17 anni poi sulla politica la politica Cacciato Mei arriva a Scopellitti dopo la febbrillazione in casa del PD per il cambio del capogruppo da Perini a Giacomoni acqua agitate anche nella Lega Fano a creare tensione la nomina del nuovo segretario fanese Luigi Scopelliti al posto di Massimo Mei che non si è mai dimesso dunque una decisione presa dalla Lega Provinciale che sta creando non pochi malumori cultura pronti a Pesaro per Pesaro Capitale ma con un'alleanza marchigiana il sindaco Ricci e il vice Vimini lanciano la candidatura per il 2024 e quest'estate riapre il Museo Oliveriano da Recanati ad Ancona scommessa aperta Pesaro non è la prima città marchigiana a candidarsi a questo ambito riconoscimento di Capitale Italiano della Cultura si deve andare al 2018 per ritrovare la candidatura di Recanati Bucano le gomme per rubare nelle automobili ma la vittima li riconosce incastrandoli siamo a Pesaro agivano in due nel parcheggio di un supermercato a Borgo Santa Maria denunciati dai carabinieri poi San Benedetto lo vedete in questa immagine in questa fotografia in questo immobile bene il ripensamento è tempo di una nuova visione urbana Apreti Pesaro interviene sul futuro e sui progetti attorno all'ex psichiatrico Poi Vallefoglia biodigestore portale Green Factory dedicato al colloquio con i cittadini Cattividori Società Energia Nuova Rassicura il Comune controlleremo il processo produttivo Terzo settore Sport e Sport presto i sostegni economici Biancani annuncia l'arrivo a breve di bandi regionali per circa 4 milioni e 700 mila euro la pagina di Urbino invece Igli interrogatorio in procura su Ambera chiederemo l'annunità del processo omicidio Lulli illegale a sole dice l'entrata in scena della ragazza cambia le carte in tavola così il procedimento tornerebbe alla linea di partenza con una nuova udienza preliminare sempre da Urbino oggi riapre la terapia intensiva in cardiologia 4 posti nell'UTIC Foschi dice anzi replica ai democratici sul personale e sul pronto soccorso sulle opere pubbliche invece a Fano il Corriere titola per 28 milioni il Sant'Arcangelo è il più oneroso la giunta comunale inserisce 40 interventi nell'agenda del 2021 con diverse priorità e poi Aset che ha ripulito sempre a Fano via del teatro già ricettacolo di rifiuti e bisogni e l'assessore invita i cittadini a segnalare l'incuria poi Scopelliti nuovo coordinatore della Lega di Fano ha ricevuto il testimone da Max May pronto a dialogare dice lui con i cittadini ed ecco la nuova piazza Andrea Costa Fano sarà la città più bella la previsione del sindaco la presentazione della ristrutturazione via il parcheggio e dunque come vedete beh insomma vederla da così anche il rendering notturno di questa piazza Andrea Costa con i tavolini vicino al mercato insomma potrebbe davvero diventare una bellissima un bellissimo salotto cittadino a due passi da piazza 20 Settembre e poi ecco questa è un'altra notizia invece sulla quale mi soffermerei un attimo dandovi rischiando di agnogliare un po' quelli che non sono a Fano ma siccome parliamo di tecnologia 5G quindi le nuove antenne telefoniche ecco vi leggerei semplicemente quelle che sono state già autorizzate allora intanto dice l'assessore Barbara Brunori sono state al momento presentate dagli operatori telefonici 14 domande 14 stanze per la collocazione di antenne da 700 MHz di cui 4 hanno già ricevuto parere negativo per alcune lacune o imperfezioni nella pratica comunque quelle che hanno ricevuto parere positivo quindi quelle che verranno installate sono le antenne che verranno montate a Fosso Segiore in Viale Cairoli Viale Adriatico Via Garibaldi Via Del Fiume Via Fadi Bruno a Torrette a Monte Schiantello in Via Filippini nella zona industriale di Bellocchi e Via Einstein a Bellocchi e poi a Rosciano sulle pendici di Monte Giove ora chiaramente questi sono se non ricordo male più o meno tutti siti dove già esistono ci sono già antenne telefoniche e sono quelle del 4G quindi si tratta soltanto di cambiare i pannelli mettere la tecnologia 5G e quindi poco cambia non credo che vengano autorizzate nuovi siti da quello che più o meno ho individuato poi ci sono altre 5 istanze 5 domande con antenne da 3 e 7 GHz però hanno avuto parere negativo sono quelle di Rosciano Santa Cristina poi due nella zona industriale di Bellocchi queste non sono state autorizzate e in località Vallone lungo l'autostrada all'altezza di Sant'Andrea in Villis allora per quelle da 700 MHz ovviamente bisognerà aspettare luglio 2022 perché sono frequenze che sono in questo momento in uso alle televisioni locali non noi ma altre televisioni locali che dovranno dismettere tra poco ora sul 5G se ne sentono di tutti i colori se ne parla abbondantemente ora a detta degli esperti queste antenne sarebbero però meno pericolose di quelle tuttora in funzione in quanto meno potenti tanto che dovrebbero salvaguardarci più dall'uso dei cellulari che dalla vicinanza degli impianti la filosofia del 5G è meno potenza ma più antenne rispetto a come sono concepite oggi che da una parte appunto potrebbero sì effettivamente fare meno male perché quando un telefonino lo dico perché su questo ne abbiamo abbiamo studiato parecchio quando un telefonino non è vicino ad una antenna ad un ripetitore ce l'ha lontano sforza molto quindi usa molta potenza per agganciare la cella e quindi fa molto male fa molto male meglio averne poche cioè tante ma vicine piuttosto che una è lontana andiamo sull'altra pagina adesso della Valmetauro di servizi con motivazioni inaccettabili così si arriva alla chiusura dell'ospedale duro giudizio dell'articolo qui siamo a Fossobrone dell'articolo 32 sulla sospensione di laboratorio analisi e ambulatori l'accusa è di non avere una programmazione chiamato in caso anche il sindaco che non ha appoggiato la fondazione salvifica per la struttura poi sempre da Fossobrone nella rotatoria nessun problema di visuale il sindaco con la polizia locale e la provincia smentisce l'osservatorio cittadino la costituzione a San Lorenzo in campo data ai ragazzi il sindaco dell'Onti fa educazione civica il sindaco illustra il significato dell'articolo 3 sull'eguaglianza e poi ancora altre notizie sempre dalla pagina con da Monteporzio questa donazione di tablet alle scuole sanificatori anche borracce l'iniziativa del comune di Monteporzio con l'appoggio di Aset poi c'è questa storia siccome parliamo di fibromialgia in quest'articolo del Corriere Adriatico la fibromialgia per chi ce l'ha si sa purtroppo colpisce molto le donne ma anche gli uomini anche gli uomini vengono colpiti da questa malattia che non è poi riconosciuta al 100% ma che comunque chi ce l'ha sa benissimo di cosa sto parlando di dolori ai muscoli dolori anche forti allora c'è questa pagina che vi segnalo sul Corriere di oggi arriva da Cattolica però se andate su Facebook c'è questa ragazza che ha aperto questo gruppo che si chiama Vinco Io Fibromialgia e che racconta la sua esperienza la fibromialgia è un disturbo cronico dicevo il cui principale sintomo è rappresentato da forti dolori diffusi a muscoli ossa e nervi che però non è del tutto riconosciuta in Italia ne soffrono circa 2 milioni di persone soprattutto donne a maggio racconta questa ragazza che si chiama Simona Pini che è titolare di una pizzeria cattolica dice a maggio ho iniziato una cura abbastanza forte che ho portato avanti per 8 mesi insomma si era imbottita di medicine poi a un certo punto però dice lei mi sembrava una drogata poi a un certo punto ho incontrato sempre sulla rete una persona che si faceva seguire da un medico di Milano ho eliminato subito tutte le medicine da 15 giorni mi curo dice lei esclusivamente con un'alimentazione mirata sto prendendo 10 integratori naturali di vario genere per 3 volte al giorno insomma il risultato qual è? è che si è fatta 8 km a piedi quando fino a poco tempo prima non riusciva nemmeno a stare in piedi ora questa ragazza ha 3 figli sposata ha un'attività che sta andando male come tutte le attività economiche perché è una pizzeria con il lockdown con le chiusure i colori insomma potete immaginare come sta andando però racconta lei la fremiumologia è stata attenuata ora purtroppo sanno bene ripeto la fremiumologia non passa quando si si ha bisogna conviverci però però si può migliorare si può convivere in maniera dignitosa e questo è un articolo che troverete sul Corriere Adriatico di oggi la pagina di Cattolica torniamo invece adesso sul Carlino pagina 20 Senigallia in classe a queste condizioni non si può sono parole estrapolate da una lettera aperta di un gruppo di studenti che dicono a scuola i ragazzi di tanti paesi dove l'epidemia ha diversi risvolti non c'è sicurezza quindi quindi come vedete non tutti sono per il ritorno a scuola questo avverrà nelle Marche dal lunedì prossimo al 50% poi insulti via web al consigliere del PD romano apostrofato come idiota su Facebook il capogruppo romano dice spero di spero non si ripeta uno spot un post spiacevole e poi sul nuovo nome sono tutti d'accordo il nuovo nome da dare al ponte che è stato riaperto la settimana scorsa a Senigallia dopo anni di lavori per ora lo possono utilizzare soltanto i pedoni però sulle macchine e sui pedoni il ponte divide tutti intanto si chiamerà il ponte degli angeli il ponte degli angeli insomma gli angeli sono quelli dell'8 dicembre 2018 che sono morti alla discoteca Lanterna Azzurra ma sul suo utilizzo la giunta e l'opposizione litigano praticamente ancora a Urbino caso ospedale riaprono i reparti l'assessore alla sanità Elisabetta Foschi dice si sbloccano la terapia intensiva della cardiologia e della psichiatria la situazione in città è più o meno stabile dice la Foschi adesso però sta leggermente migliorando e poi la storia sul Corriere Adriatico a pagina 16 guardate questa fotografia come nel piccolo principe insomma questa è una volpe una volpe che mangia direttamente dalle mani di un uomo un uomo che è proprietario di un agriturismo a pian di molino di Apecchio siamo nel Pesarese e che ormai da molto tempo da un diverso tempo appunto sfama questa volpe da questa coda molto molto bella che ogni sera tra le 19 le 19.30 si presenta con il suo muso furbetto e la coda soffice si presenta nei pressi di questo di questo agriturismo ad Apecchio e si fa praticamente prende da mangiare ormai diventata una star dice Angelo scrive Angelo Parlani sul Corriere di questa mattina un bel racconto una bella storia di uomini e animali poi sotto sempre sul Corriere si parla invece di un altro animale che è una tartaruga la caretta caretta trovata in grave stato di ipotermia sul lungomare di Baia Flaminia a Pesaro e che ha fatto scaltare una sinergia a tre per salvarla la tartaruga chiamata Flaminia è stata soccorsa venerdì sera dalla Capitania di Porto dall'ente Parco San Bartolo e dalla Fondazione Cetace insomma non è la prima volta che a Pesaro fanno questi interventi di salvataggio nei confronti delle tartarughe sono le 7.27 per chi ci segue in diretta sul canale 17 e sui social l'augurio ovviamente è di una buona giornata un buon fine settimana a tutti vi ricordo che questa sera alle 20.30 abbiamo il nostro magazine 7 per occhio che fa un po' il punto di tutte le notizie più importanti della settimana l'informazione invece in diretta torna lunedì prossimo alle 7 puntuali qui come sempre arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti.